Bentornati sul canale giornalismo del cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come In questi ultimi giorni degli ex concorrenti del GF VIP sarebbero stati beccati insieme, alla vista i fan sono letteralmente impazziti Di chi si tratta? Il GF VIP è ormai terminato da più di un mese ma sia dei concorrenti, che dell'edizione stessa che della prossima se ne continua a parlare D'altronde era impensabile il contrario dato l'incredibile successo che ha ottenuto anche quest'anno Merito dei concorrenti, degli intrighi, delle storie e delle emozioni vissute Merito anche del conduttore Alfonso Signorini che, con assoluta professionalità, ha saputo scegliere e mischiare insieme i diversi protagonisti che hanno fatto parte del reality GF VIP logo.Ma ovviamente durante la convivenza è normale simpatizzare per alcune persone piuttosto che per altre Risulterebbe impensabile andare d'accordo con tutti. D'altra parte si può anche verificare il caso contrario Persone che magari inizialmente non erano affini, hanno scoperto in seguito di avere molto in comune e di poter instaurare un rapporto d'amicizia vero e proprio Ed è quello che è successo in questi ultimi giorni tra alcuni ex concorrenti del GF VIP Ma di chi stiamo parlando? GF VIP, ex concorrenti beccati insieme Gli ex concorrenti del GF VIP in questione che sarebbero stati beccati insieme in questi ultimi giorni fanno parte quasi tutti dell'ultima edizione del reality Tranne uno che ha partecipato all'edizione dell'anno scorso, ovvero al grande fratello VIP 5, ed è per Paolo Pretelli Mentre gli altri chi sono? Partiamo con degli indizi, uno di questi ha tenuto banco per i sei lunghi mesi di reality con il suo rapporto speciale con un'altra ex geffina e con il suo matrimonio Avrete di sicuro già capito di chi si tratta, Alex Belli. Poi, un altro ha avuto una relazione all'interno della casa del GF VIP con un'altra ex geffina ma appena usciti, la loro storia è giunta al capolinea Ancora oggi non si conoscono i reali motivi per cui si sono lasciati. Quindi di chi si tratta e chi manca all'appello? Ecco chi sono Quest'ultimo ex concorrente di cui abbiamo parlato è Biagio Danelli. E l'ultimo che manca all'appello è il simpatico Giacomo Ortiz Cosa ci facevano tutti e quattro insieme? Vi sarete chiesti Ed ecco la risposta, durante il weekend sono stati ad una festa insieme Molto probabilmente si tratta della festa del lancio della capsule di bikini con un noto brand di Delia Durani, moglie di Alex Belli Alla quale hanno appunto partecipato i sopracitati e in aggiunta, Valeria Marini, le sorelle Selassie, Giulia Salemi, Tommaso Zorzi, ecc. I fan alla vista di questo scatto sono impazziti e un utente in particolare ha commentato, chi l'avrebbe mai detto? Una bella accoppiata secondo voi? Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao